Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati con questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Boom Beach Frontlines, un nuovissimo gioco Supercell e Space Ape. Al momento questo gioco è ancora in beta, ma uscirà ufficialmente il 3 agosto, quindi vi invito a pre-iscrivervi cliccando il link nella descrizione. Se siete da Android vi basterà andare su Play Store e pre-iscrivervi, invece da iOS dovete andare semplicemente sul sito. Se vi pre-iscriverete a questo fantastico gioco otterrete come ricompensa il Beach Pass, che è l'equivalente del Battle Pass con tantissime ricompense uniche. È un gioco nel quale due team si devono affrontare alla conquista di un'isola. Dovete conquistare le basi e uccidere tutti i nemici per vincere la partita. Abbiamo tantissimi personaggi da sbloccare, nuove parti dell'isola, dell'arcipelago in cui ci troviamo noi, della nostra base. Tantissime meccaniche di gioco incredibili. Adesso andremo a aprire un po' di box per ottenere tantissime carte e upgradarle tantissimo per ottenere potenziamenti e poi andare in partite insieme a Marci e Buddy. E speriamo anche di vincere questa partita. Abbiamo tantissime cose da sbloccare, le cose gratuiti alcune le ho già sbloccate ma le cose incredibili sono quelle sopra. Innanzitutto abbiamo queste, che io però ho già l'inventario pieno, sono dei jolly, con cui io posso decidere che cosa andare a migliorare. Giogli epici, comuni, orari. Andremo subito alle box, la big box, la grandissima box. Vediamo cosa accreditiamo. Tantissime monete, delle gemme, il medico e infine lo scudo. Andiamo a aprire tantissime cose, vediamo cosa otteniamo. Dobbiamo comunque evolverci e trovare tantissime carte per migliorare il nostro esercito. Abbiamo tantissime monete, il baby turret e ancora il 4x4. E anche lo zucca. Questa carta è fortissima, l'ho provata, è una delle mie preferite, mi piace davvero tantissimo. Vediamo tutte le monete, apriamo tutte le big box che ci troviamo qua. Potiamo aprire la sniper tower, il medico, possiamo potenziare tantissime cose. Anche il caro armato, il caro armato io lo adoro tantissimo. Continuiamo ad aprire, vediamo cosa è che troviamo. Altri coins, sniper tower, grandz e lo zucca. Perfetto, possiamo anche migliorarlo. Ottimo, davvero ottimo. Apriamo la mega box, andiamo a aprire e vediamo cos'è che troviamo qua. 500 coins, 26 assalti, 32 medici, 6 di cure. Vediamo un boom cannon, anche questo possiamo potenziarlo. Questo mi sembra davvero enorme e potremmo ottenere davvero tantissime carte potentissime. 400 coins, 14 machine gun, 83 grandz, 10 cannon e invece un boom cannon. Davvero davvero incredibile. Vediamo se abbiamo ancora alcune di queste box da aprire. Vediamo se c'è ancora cos'altro. Abbiamo il mega box e un altro premium box. Le altre non le ho ancora sbloccate perché non sono ancora a livello abbastanza alto. Però pian piano che si aumenta di livello, ovviamente potenziamo tutte le cose. Adesso abbiamo tantissime carte da potenziare. I soldi ne abbiamo 9000, penso che mi bastino. Apriamo l'ultima premium box e vediamo cos'è che otteniamo. Otteniamo 400 monete, 37 machine gun, 60 baby turret, 10 EV e un boom cannon. Perfetto ragazzi, abbiamo aperto tantissime cose. Ne avrei ancora tantissime da aprire, però direi che perdiamo tantissimo tempo. Quindi andiamo subito a migliorare un po' di cose. Andiamo qua agli upgrade. Allora cosa possiamo migliorare? Io miglioro subito l'assalto, che è uno di quelli base ed è straforte. Poi miglioro sicuramente il caro armato. Andrei a migliorare anche l'unica carta epica che ho, il boom cannon. Miglioramolo per 800 monete. Marci e baddi, siete pronti a combattere una battaglia incredibile? Allora, io sono già pronto da 10 minuti. Metti i raid di forza. Allora, 60 minuti. E poi la mia battuta, non rubarmi la battuta. La battuta di tutti. E a te il mio padre. Il mio padre è nato prima. La faceva mia nonna con la battuta. E va bene, il mio bisnonno allora. Dai dai ragazzi che dobbiamo portarci a casa questa partita. Ma è ovvio che vinciamo, ma giochiamo con Loco. Cioè Loco è fortissimo a sto gioco. Ma scusami, ma cosa vuol dire? Allora, tu baddi fai il medico, ok? No. Io quando levi, sicuro, non mi interessa. Io prendo l'assalto invece. Io prendo l'assalto. Poi non l'assalto. No, Zucca a me non piace provocare niente. A me piace, ma è fortissimo Zucca, dai. No, io prendisco i connex. A qualcuno che fa il medico. A qualcuno se ne avete i Non mi ricordo. Oh, non mi ricordo. Non lo so, però il bazooka l'ho maxato di brutto. Sono a livello 6, quindi. Quanto avete scioppato voi? Io ragazzi ho le vie a livello 8, ragazzi. Ragazzi c'è un carro che ci sta sparando, viola. È un nemico, mi sa. Io su da tutt'altra parte, poi non so te a chi stai guardando. Io sto, ragazzi stiamo conquistando la base. Aiutateci, ci son tutti nemici qua. Siamo qua, sono qua. Ah io sto facendo da video, dai su. roba di conquista a fare qualcosa di utile la tua vita alto che lo faccio se uno morto ma non fai bene nulla forza ricarica ricarica parisimo marci ci di botto ci di botto quello che mi salva c'è brady pitt è arrivato brady pitt dai ragazzi però c'è senza medici non si può fare ma di te il medico vai fai il medico bad non sono capace a fare il medico io non sono capace sono scarso a curare le persone ragazzi mi date una persona da cura io muoio la io faccio l'idea io sono un caro armato ma io io sono un caro armato detto sono fortissimo quello è quello bello Quello più forte che va per i cavoli suoi e conquista la base eh dillo subito io ho il mio sono fortissimo col mio no raga senza medici è un casino eh marci copriti copriti marci io ce l'ho al medico al medico gli piaccio io guarda eh marci conquista base conquista base forza tutti qua tutti qua forza andiamo andiamo stiamo perdendo l'altra non ha molto senso va niente conquistiamo una perdiamo l'altra va benissimo si si ci sta ci sta è un'idea incredibile questa però senza che il medico mi aiuti non è al massimo diciamo che ma almeno dico mi vuole bene vedi che mi vuole bene guarda che tipo lì che mi continua a colpire ma che tenero che è ma perché non colpisce me ma me ragazzi ragazzi sono in base sono in base sono in base ci stanno uccidendo mi ha dissuto bros mi ha dissuto raga no ha dissuto il bro il bro marci dai che ti aiuto marci t'aiuto ma marci è morto dove è marci allora non ti aiuto ma sei andato marci e c'è il brand pit qua ragazzi comunque non vorrei dire ma il caro armato quello lì che vi dicevo bello sta conquistando la nostra base ma marci vai tranquillo ce l'ho io il caro armato guarda come son potente son potentissimo qua quando morti tutti non ti saprei dire guarda io ho messo qualcosa ho messo tutto dovete dipendere tutta la base dovete dire un po' di cose non avete idea raga sto facendo un'azione pazzesca arriviamo arriviamo hanno preso a piedi raga mi sto incastrando mi sto incastrando nelle strutture sono troppo grosso non ci passo io te lo stavo dicendo ma tu non mi hai calcolato zitto c'è di brosso zitto c'è di brosso io sto perdendo il caro armato fra poco muoio perdo tutta la vita e prendo la macchinina e ragazzi andiamo bravissimo marci bravissimo prendi 4x4 che anche quello è fortissimo devo investire la gente prendili tutti eh marci tutti sotto io mi prendo livi adesso vado con livi devi andare su sto carano attivo qua guarda mi fermo qui nell'angolino aiuto sto morrendo sono morto come sei morto buddy non devi morire è la mia prima morte non mi chiamo marci io marci è successissimo sto gioco comunque eh raga io sto sono da solo conto 4 aiutatemi ci sono tutti bravo buddy finalmente un medico decente mi devi curare ok sono morto raga sono morto ma io aiutati un botto i nostri amici pensavo avesse aiutato i nemici raga adesso però attendo Levi attendo Levi io ci piega tantissimo a caricare no dove devi curarmi dove devi curarmi non è che ti posso curare infinitamente la tua vita è come no ti butti in faccia la gente non è è come uno che dice voglio attraversare la strada con il semaforo rosso ma le macchine mica lo investono comunque le macchine lo vedono siamo tutti no siamo su B tutti siamo tutti qua B peccato che c'è il carri armato quello che distrugge in un colpo la torre ma è quasi distrutto no hanno messo il coso il boom cannon è fortissimo questo no l'ho distrutto in un colpo bravissimo bravissimo guarda che forte guarda che forte forza andiamo prendiamoci quello che è il nostro veloce dai dai devi prendere questa cosa va che devo aspettare voi due ubadi difendi mi raccomando che abbiamo così vinto sto prendendo il carri armato quello forte bravo bravo una cosa utile l'hai fatta nella tua vita finalmente relo diamo relo diamo relo diamo questa non devi dirlo secondo me loco non è una battuta simpatica ovviamente dai non era molto simpatica ha ben preso la ben presa ragazzi secondo me l'ha fatto apposta ma no non lo sarei mai oh c'è un medico qua mi può aiutare sto medico schifoso è BM8 un medico con un carri armato ma che è su tutti i medici sono? da quando sono ben medico non ti calcola no che è messa cosa sta curando è fortissimo cos'è sto coso bad è bellissimo Vittoria in 10 secondi Vittoria siamo fortissimi siamo fortissimi Vittoria Giovanna Gigi raga Gigi oserei dire Gigi ragazzi se non sono primo mi arrabbi no io sarò ultimo sarò ovviamente raga ma come va di primo buono buono marci quarto ma dai marci sei sotto Black of the Richards ma perchè io giocavo da dietro è vero era il support ero il support abbiamo ottenuto tantissime medaglie tantissimi livelli adesso vediamo se posso ho tantissime cose cos'è shoppi cos'è shoppi io non shoppo niente comunque possiamo quella che dice tantissimi livelli poi shoppa io devo esplorare nuove zone per scoprire tantissime gemme tantissime cose segrete incredibili andiamo faccio questa seconda partita e vincerei anche questa dai ragazzi ho deciso stavolta faccio il medico inizio come medico e vi curo ok stami dietro eh ma tanto ti scasso comunque cioè inutile non è che devi fare qualcosa di particolare perfetto Buddy non lo curo io curo solo Marci allora ho deciso ok stami dietro perfetto prendo il medico comunque il medico c'è un livello 6 è altissimo oh no è battoli a livello 6 ok tu shoppi ma Marci c'è l'all'otto questo sbaglio si sono all'otto sono all'otto è fortissimo ma tu Marci sei fortissimo è marci un po' ignorante io curo solo te allora curo solamente te vai questo qua ragazzi spara questo vai easy questo vai easy lo sfuggiamo no lo dobbiamo conquistare poi lo dobbiamo conquistare si può conquistare sto coso è da due ore che ve lo stavo dicendo è ma devi specificare le cose non è che poi di dirmene così senza nulla dai che ci sono i nemici qua sparate a loro intanto io sto curando Marci ti sto curando vai per uccidere il forzo uccidere i tutti bravissimi bravissimi io continuo a curarti continuo a curarti forza dobbiamo prendere la base stiamo prendendo anche B ok c'è un tizio qua bravissimi attento a Liddy che è molto forte io a curare Marci hanno chiamato l'air strike madonna è morto in un secondo con l'air strike io curo l'altro l'assalto no è morto l'assalto e vabbè ok perfetto possiamo andare ragazzi c'è una torretta in base c'è una torretta ma la torretta si ma sto morendo io sto morendo bravissimi bravissimi mi sta bene ti sta stiamo per vincere in due secondi aspetta dobbiamo bidare a dobbiamo bidare a Marci non andare da solo aspetta vai Marci spara tutti eh vai spara 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 no devi curare Marci eh non mi ha curato non mi ha curato eh ma eri lontano sei una vergogna non posso curarlo sei lontano tanto l'abbiamo già presa l'abbiamo presa l'abbiamo quasi vinto quanto siamo forti tutto grazie a io che sono ovviamente il medico grazie a io grazie a me che sono il medico grazie a io adesso sono un carro armato difendo la base ragazzi volete vedere che sono ancora primo sono ancora primo me lo sento io ho curato tutti sono support quindi sono ancora primo tutto grazie a Loco tutto grazie a Loco mamma mia cosa vi avevo detto aspetta 1.100 è quello che si vede in alta destra giusto? eh boh no sì no perché io ho speso un sacco di soldi forse per quello che non ho fatto comunque terzo support è incredibile sono davvero bruttissimo ragazzi no veramente assurdo ma sono ma è troppo magico incredibile abbiamo tantissime medaglie dai che fa poco arrivo a mille medaglie anche a livello 11 poi penso che a livello 12 sblocchiamo questa barca Allianz Boat forse penso sia il Crenn questo facciamo il nostro Crenn ragazzi va bene va bene ma io non c'entro perfetto io non c'entro con Loco ma come c'entri dai che ho completato anche queste missioni guardando tantissime cose apriamo anche questo il medium piggy tutti i soldi per noi ragazzi io penso che adesso vi saluterò mi raccomando cliccate il link nella descrizione per pre-registrarvi al gioco e ottenere il beach pass con tantissime ricompense che vi ho mostrato prima dato questo fatemi sapere nei commenti se volete altri video di questo fantastico gioco che mi raccomando uscirà il 3 gennaio uffic- no che 3 gennaio il 3 agosto il 3 agosto uscirà ufficialmente mi raccomando pre-registratevi e giocateci tutti insieme con i vostri amici dato questo grazie per essere ci state ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao a tutti